L'uscita dall'Unione Europea avrebbe un costo enorme per l'economia e l'occupazione nel Regno Unito, come la perdita di quasi un milione di posti di lavoro entro il 2020, è la conclusione di uno studio commissionato dalla Confindustria Britannica. Il calo della produzione dovuto alla Brexit farebbe perdere quasi 130 miliardi di euro all'economia, il 5% del prodotto interno lordo e farebbe aumentare il tasso di disoccupazione del 2-3%, anche nel migliore dei casi, ossia la conclusione di accordi commerciali con i partner europei, sarebbe un duro colpo. La Confindustria Britannica, favorevole alla permanenza del paese nell'Unione Europea, è stata attaccata dai gruppi che promuovono l'uscita in occasione del referendum del 23 giugno. Secondo Vote Leave, lo studio tracciò un'immagine distorta.